Non abbiamo notizie di Malick. Su Disney Plus. Ha visto mio fratello? Stanotte suo fratello è stato trasportato all'ospedale Cushin, dove ne hanno constatato il decesso. Non ci aspettiamo che ci rendano Malick, ci aspettiamo che ci rendano giustizia. Giustizia per Malick! Giustizia per Malick! Non mi renderanno mio figlio. Perché? Ussekinna. Tutti gli episodi in esclusiva dall'11 maggio su Disney Plus.